Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming! Benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video guida in cui voglio mostrarvi come poter completare tutti i trionfi dell'evento La Rievocazione nell'edizione 2019 e dov'è possibile darvi qualche dritta per velocizzare un po' i tempi. Visto che come ormai tutti sappiamo questo evento durerà soltanto tre settimane e ne manca soltanto una e considerando che tra le ricompense possiamo trovare sia un emblema unico che un'arma esotica vale la pena buttarci un po' di tempo. Prima che me lo chiediate comunque l'arma esotica dopo verrà introdotta nella classica pool di drop quindi con un engramma esotico potrete trovarla. Con questo evento però è molto più semplice ottenerla, è molto più immediato. Iniziando subito, i trionfi in totale saranno ben 12, uno di questi però come vedremo in seguito e come vi ho già annunciato in un videonews in questi giorni verrà modificato post evento, l'effetto però sarà retrattivo. Iniziando festeggiamenti eccessivi, completa tutti gli 11 trionfi quindi tutti gli altri e ricompensarà con un emblema unico. Troviamo poi grandi festeggiamenti, richiederà di completare 7 di questi trionfi. Grazie proprio a questo trionfo sarà poi possibile acquistare da Eva Levante al costo di 300 essenze del rievocatore l'Arba Lesta, l'arma esotica premio di questo evento. Proseguendo pulizie di primavera, completare 50 rami nella foresta verdeggiante. Non sarà necessario completarli tutti in una sola run, quindi semplicemente giocando questo lo si sbloccherà. Poi luce verdeggiante competitiva, ottenere 200 sfere di luce, attivando il modificatore luce rivolcatrice quindi uccidendo i nemici con colpo preciso, nel crogiolo o in azzardo. Adesso sappiamo già che azzardo è disattivato, varrà soltanto il crogiolo e questo trionfo in particolare, o meglio il requisito di questo trionfo verrà ridotto a soltanto 20. Questo effetto entrerà in vigore dopo il 6 maggio quindi se avrete fatto almeno 20 sfere di luce, questo trionfo ve lo darà sbloccato. Inoltre se vi mancherà soltanto un trionfo, sia questo, per sbloccare grandi festeggiamenti o festeggiamenti eccessivi, non preoccupatevi vi verranno sbloccati in automatico anche qui due, lo ha già annunciato Bungie. Poi luce verdeggiante cooperativa, generare sfere di luce negli assalti o nelle incursioni. Luce verdeggiante eventi, generare sempre sfere di luce nella foresta o in una forgia, una qualsiasi. Caccia primaverile, durante la rievocazione sconfiggi tre boss in un completamento della foresta verteggiante, quindi semplicemente arrivando alla fine di una run bisognerà uccidere almeno tre boss, abbastanza semplice visto che in totale sono cinque. Moda in erba, sconfiggi i boss nella foresta verdeggiante mentre indossi almeno quattro pezzi dell'armatura. Mi piace particolarmente che avrò deciso di fare con quattro e non cinque, così da poter utilizzare almeno un pezzo d'armatura esotico. Poi super celebrazione, durante la rievocazione sconfiggi nemici utilizzando la super in qualsiasi attività, semplice e conciso. Fuochi d'artificio, infliggi colpi di grazia con le granate nel crogiolo, in azzardo o negli assalti. Qui dovrebbero valere in azzardo anche, ma giocando normalmente questo obiettivo lo completerete. Troviamo poi pandemonio di corpo a corpo, infliggi colpi di grazia con il corpo a corpo nella foresta, in una forgia dell'armeria o nelle incursioni. Qui il mio consiglio di farlo nella foresta molto semplicemente sfruttando le abilità corpo a corpo conteranno, in particolare con il cacciatore ai coltellini è abbastanza semplice, ed infine una primavera di taglie. Completare 50 taglie di Eva Levante di questo evento. Forse è quello più lungo perché ci sono soltanto quattro taglie settimanali e cinque giornaliere, quindi in una settimana di base con un solo personaggio soltanto 39 ne potremo completare, al massimo, ma già con due personaggi questo trionfo si completerà in un paio di giorni, o meglio matematicamente parlando in circa quattro cinque giorni, quindi una settimana basterà e avanzerà. E a differenza degli altri eventi passati non ce n'è nemmeno uno segreto. Dunque ragazzi, per quanto riguarda il come completare tutti i trionfi dell'evento, la rievocazione nell'edizione 2019 è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e il vostro regalimento, vi invito ad lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!